Io le chiedo, lei è antifascista? Assolutamente sì. Ma perché la Meloni non mi risponde così se glielo chiedo? Che ne so, io devo chiedere a Meloni, ma devo chiedere a me. Però mi pare che la Meloni, non è che ogni volta bisogna fare il processo alle sue possibili idee. Non è che uno va ogni volta ad Alema e dice sei anticomunista? Che vuol dire? Che sei contro Pol Pot? Il fascismo in Italia è una cosa diversa, in Italia. Il fascismo in Italia è stata una dittatura. Anche il comunismo nel mondo sono affatto milioni di volte. Ma stiamo parlando dell'Italia, Berlinguer è sempre stato un leader democratico. Berlinguer, togliati, no.